In Italia le persone tra i 50 e i 70 anni sono circa 16 milioni, una fascia di popolazione in forte crescita che suscita molti interessi da parte delle istituzioni preposte dal mondo medico-scientifico perché è importante che gli over 50 imparino a vivere secondo corrette abitudini salutari per continuare ad avere una vita serena e sana. E per incoraggiare le persone a vivere in salute e con più energie negli anni è stata presentata la campagna Vivi con Vigori in occasione del convegno Sport, Alimentazione e Vitalità a misura di senior patrocinato da Regione Lazio, Coni e Italia Longeva. Un tema sempre più importante perché c'è questo innalzamento dell'età per cui i 50, i 60, i 70, gli 80 e i 90. Quindi voi geriatri siete in primo piano per poter permettere che le persone rimangano in vigore perché se si ha 90 anni, 80 anni e bisogna essere poi continuamente ricoverati per patologie è un problema. Esattamente, la visione è proprio questa, non pensare più di iniziare una prevenzione o fare qualcosa quando si è troppo avanti con gli anni. Bisogna iniziare molto presto. Perché? Perché oggi noi abbiamo dimostrato chiaramente che già a 40 anni, 44 anni, inizia un certo declino che è un declino correlato al normale invecchiamento, cioè non è un declino patologico. Ed è un declino non solo della quantità di muscolo, della massa muscolare o per esempio di quello che già sapevamo della massa ossea, ma è un declino di forza e funzione. Quindi è importante iniziare già a 44-50 anni a contrastare questo declino. E oggi sappiamo due cose molto semplici ma decisive. Che una corretta alimentazione e un corretto esercizio fisico sono la combinazione vincente per poter contrastare, rallentare questo declino e quindi trovarmi a 80-90 anni in una situazione migliore, con una migliore performance. Ma di solito noi non siamo, cioè ci viene i consigli, li dimentichiamo. Quindi si pensa sempre di procrastinare le buone regole. Mentre invece, cos'è che assolutamente non bisogna rimandare in una buona correzione di stile di vita? Queste direi che oggi non sono più consigli, sono raccomandazioni. C'è qualcosa che assolutamente dobbiamo fare e sempre di più ci dobbiamo impegnare in queste strategie preventive. Dobbiamo semplificare anche il messaggio. Oggi noi sappiamo, per esempio, che una corretta alimentazione parte da un adeguato apporto di frutta e verdura, almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura. A questo però bisogna associare un adeguato introito, cioè un adeguato apporto di proteine, di proteine di origine vegetale, ma anche non disdegnare le proteine di origine animale. Ancora una volta non lo dice l'Andy, non lo dice un aneddoto, lo dice la scienza, lo dicono gli studi scientifici che hanno dimostrato e abbiamo dimostrato anche recentemente che questo comportamento insieme ad almeno 15-20 minuti, se arriviamo a 30 anche meglio, di esercizio fisico al giorno, sono una sinergia vincente per invecchiare bene, per invecchiare in buona salute. Non le chiedo quanti anni ha, ma lei ha già un corretto stile di vita? No, io glielo dico, lo dico anche perché proprio viene facile, perché l'ho fatti da poco, 53, quindi anche io sono nella fase, come dire, di declino. Il corretto stile di vita è assolutamente, non fumo, una dieta il più possibile rispetto anche a quelli che sono gli impegni quotidiani il più possibile corretta e poi l'esercizio fisico è, ripeto, è come la nostra medicina. La cosa più importante che io dico sempre, noi ci difendiamo, dice non abbiamo tempo, domani troppo lavoro, eccetera. Ecco, l'esercizio fisico noi dobbiamo pensare non la mattina quando ci svegliamo, ma la sera prima quando andiamo a dormire, di metterlo in agenda del giorno successivo, insieme agli appuntamenti, alle conferenze stampa, alle conferenze, eccetera, l'esercizio fisico. Io almeno quattro volte a settimana, durante l'inverno considerando anche la sciatina domenicale, almeno cinque volte a settimana esercizio fisico, sia aerobico, sia contro resistenza, lo faccio. Praticamente nel titolo del convegno c'è già tutto, vivi con vigore, in forma dopo i cinquanta. Vivi con vigore perché professoressa cosa succede? Forse passa un po' l'appetito, ci si muove di meno, addirittura in casi estremi si può arrivare a una sarcopenia, che sarebbe la cosa peggiore. Allora, come rimanere in vigore? Sicuramente dopo i cinquant'anni noi donne, come tutti, dovremmo affrontare un'alimentazione maggiormente consapevole delle scelte alimentari che facciamo, proprio perché non viviamo più di rendita come negli anni precedenti, ma dobbiamo pensare a rafforzare le strutture che abbiamo e a mantenerle. Quindi fare un'attività motoria che consenta alle nostre articolazioni di mantenersi elastiche, attivare la muscolatura che spesso non è abbastanza nutrita da un'alimentazione equilibrata. Quindi può essere in questi casi anche necessaria una supplementazione di proteine, vitamina D, di minerali utili a completare quello che la nostra alimentazione magari non corretta, da un'indicazione anche specialistica, quando è necessaria, può causare. Noi cerchiamo di sfruttare con questa campagna anche i moderni mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione. Avere una web con sé che costantemente ci consente di ricordare, avere un fatto di facile consultazione di cose opportune o non opportune fare o come poter vivere meglio la propria quotidianità è un punto secondo noi di grossa importanza nella campagna di awareness. Non solo, questo tool e questa piattaforma web che noi mettiamo a disposizione della comunità consente anche un'altra cosa molto importante che è quello di mettere in connessione e di creare rete tra le persone che condividono questo obiettivo di un corretto stile di vita. Quindi la solitudine che spesso porta a depressione eccetera in questo modo viene manificata. È un elemento che ci aiuta a superarla sicuramente. Dal 23 al 26 marzo a Firenze ci sarà il congresso mondiale dell'osteoporosi, anche perché l'osteoporosi sappiamo che è un problema gravissimo, soprattutto con l'avanzare dell'età. Ma in questo contesto viene lanciata, anzi è iniziata una campagna di informazione che parte da Milano e Lombardia e si diffonde in tutta Italia. Ma i protagonisti sono gli odontoiatri. Perché l'odontoiatra e l'osteoporosi e la vitamina D? Per una serie lunga di motivi. Il primo, che è facilmente intuibile ma va sottolineato, è che i denti sono nell'osso. Gli impianti, che sono quelle viti che sostituiscono i denti quando questi vengono a mancare, sono nell'osso e quindi dalla salute dell'osso dipende il risultato di quello che fa l'odontoiatra. Così come in maniera reciproca tutto quello che viene fatto in odontoiatria, anche una semplice otturazione, anche una semplice sigillatura, ha un impatto diretto sull'osso. Questo concetto non è molto diffuso e quindi noi, partendo da questo concetto sul quale noi lavoriamo sia clinicamente che per la ricerca da molti anni, abbiamo iniziato a indagare il metabolismo osseo, prima di tutto facendo una densitometria a tutti i nostri pazienti che si sottopongono a trattamento parodontale o a trattamento di implantologia. E durante questa indagine abbiamo scoperto un mondo. Abbiamo scoperto un mondo sommerso di problematiche che si manifestano anche in età molto precoce, trovando pazienti che hanno l'osteoporosi a vent'anni. Quindi vorrei intanto collegare le due cose in maniera più diretta. L'indagine fatta dall'odontoiatra per suoi scopi per migliorare l'outcome e il risultato delle terapie parodontali e implantari può accendere un faro con una diagnosi precocissima su problemi che il paziente avrebbe poi manifestato a distanza di 20 o 30 anni più tardi. Quindi fare educazione sanitaria e collegare trasversalmente il problema di endocrinologia che è quello dell'osteoporosi e dell'osteopenia con il mondo odontoiatrico è una cosa estremamente importante perché ci consente di attivare la prevenzione che è quella forma di medicina povera che però dà risultati incredibili se attuata precocemente. Ecco dottore, questa campagna che è partita da Milano e dalla Lombardia quindi vuole portare l'informazione, quella che deve essere eseguita per far comprendere perché non se ne parla tanto. Cioè se uno pensa alla vitamina D non gli viene in mente che anche i denti poi sono protetti dalla vitamina D. Esatto, è così. indagare a tappeto tutti i pazienti che appunto fanno terapie di implantologia e terapie parodontali ci porta a scoprire molti casi di ipovitaminosi e mettere in condizione il paziente di capire il problema e di prendere le misure adeguate in termini di supplementazione di questa importantissima vitamina che viene impropriamente chiamata vitamina perché è un ormone. La vitamina D è un ormone che noi ci produciamo quando il sole attiva sulla nostra cute il meccanismo che poi porta alla produzione della vitamina ma spesso nonostante ci si esponga al sole la produzione rimane insufficiente ed è importante anche dire che la vitamina D non è fondamentale solo per le ossa ma è fondamentale per il buon funzionamento del sistema immunitario, per il corretto funzionamento cardiovascolare ed è come se fosse uno snodo, una rotonda sulla quale convergono molti meccanismi di fisiologia o di fisiopatologia quando la vitamina D risulta carente. Quindi è importantissimo spiegare ai pazienti che se la vitamina D è carente va presa va presa non grattugiata come il parmigiano a piacere ma va presa verificandone i livelli plasmatici prima durante la supplementazione e poi a lungo termine perché quando iniziamo a prenderla perché siamo in ipovitaminosi poi dobbiamo continuare a prenderla a meno che non ci trasferiamo a vivere sulla spiaggia cosa che per molti di noi è impossibile. E quindi dottore praticamente l'odontoiatra diventa un po' il guardiano del sistema osseo perché voi guardando un dente è come se ascoltaste tutta la persona e come si comporta. Lei ha detto una cosa incredibilmente importante è esatto ed è così il concetto l'odontoiatra quando acquisisce questa consapevolezza diventa il guardiano delle ossa e quindi fare campagna su questo far capire agli odontoiatri che è importante indagare questo aspetto e ai pazienti che bisogna prendersi cura delle proprie ossa con molti anni d'anticipo perché noi vediamo sull'osso il risultato di quello che facciamo oggi o non facciamo in termini di prevenzione non fatta fra dieci anni, fra vent'anni, fra trent'anni quindi siccome, l'ho ripetuto prima, la medicina preventiva è una medicina povera e in quanto povera negletta da tutti ma all'odontoiatra arrivano fasce di popolazione che sono già in qualche modo sensibili alle tematiche della salute trasferire attraverso l'odontoiatria questi concetti alla popolazione generale secondo me è una cosa molto importante che gli odontoiatri possono fare Devo ringraziarla, ma la nostra informazione è una cosa reale ricordi questa campagna, che cosa significa già partita da Milano? Cosa abbiamo immaginato noi? Siccome per motivi ovvi che sono legati al taglio dei servizi che il Servizio Sanitario Nazionale fa nei confronti del paziente oggi è diventato difficile anche seguire una MOC, una densitometria noi ci siamo comprati i densitometri in tutte le cliniche e mettiamo a disposizione dei pazienti che lo vorranno fare durante questo periodo di campagna una visita gratuita per la parodontite e una densitometria a un costo che è infimo quindi copre semplicemente le spese quindi questa è una campagna che mi auguro che noi saremo in grado di ripetere in futuro e che porti tanti benefici a pazienti che oggi hanno questo rischio reale di frattura e attivati dalla diagnosi precoce poi la eviteranno in futuro Grazie a tutti Grazie a tutti